Siamo ritornati insieme in diretta, come vi preannunciavo, a questo punto dovremmo avere in collegamento Monsignor Ricchiuti, Presidente di Pax Cristi, per parlare della Scuola di Innovazione Sociale per la Pace. Il collegamento non è ancora pronto, ma noi, se Sua Eccellenza non fosse pronto, abbiamo possibilità di chiamare al numero che ho appena inviato alla regia, la collaboratrice dello stesso... Eccolo lì, eccolo lì, eccellenza, buongiorno, per un attimo mi ha fatto tremare i polsi perché siamo in diretta. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Tante volte, quando si dice il bello della diretta, ma è un modo di dire perché non è bello per niente. Allora, grazie, grazie molto, è un piccolo contrattempo in quel momento. Grazie mille per la disposizione. Sono qua, sono qua, grazie e auguri anche a voi, buona giornata di lavoro a voi tutti. Grazie mille per la disponibilità. In studio con me c'è anche il collega Nicola Morcavallo, ecco con il quale scambieremo due chiacchiere con lei, a partire appunto da questa terza edizione della Scuola di Innovazione Sociale per la Pace, argomento quanto mai necessario è affrontare in questi giorni così complicati e così importanti per il futuro di tutti noi. Quindi ecco, le lascio la parola. Sì, grazie, grazie a molte. Sì, è vero, sono giorni molto molto difficili, ma nello stesso tempo sono giorni che ancora di più ci impegnano, ci stimolano a mettere in atto iniziative, interventi, per una riflessione, perché è importantissimo riflettere, pregare, pensare, come un bellissimo titolo che ho letto qualche giorno fa di un libro, pensare la pace. Allora, è in questo quadro, in questo contesto, che due anni fa Paschristi Italia pensa ad una iniziativa che avrebbe dovuto interessare soprattutto, ecco, il pensiero, il pensiero teologico, il pensiero filosofico, con questa iniziativa della Scuola di Innovazione Sociale per la Pace, in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, che abbiamo trovato molto molto disponibile attraverso i suoi docenti a questa iniziativa. E tra l'altro, ricordo in questo momento, come tutto questo rientra poi nelle finalità di Paschristi, che è il movimento nato, stiamo facendo il compleanno quest'anno, 70 anni Paschristi Italia e l'anno prossimo 80 i Paschristi internazionali. E appunto si è pensato come tradizione, come finalità del movimento, quello di formare alla pace, educare alla pace, attraverso interventi o iniziative, soprattutto nelle scuole, tra i giovani, tra i ragazzi, nelle parrocchie. Ma appunto si pensava ad andare ancora oltre e interessare il mondo accademico. E devo dire che i due anni trascorsi hanno ottenuto, direi, una, come dire, una bella riuscita. E io stesso ho partecipato nel senso di augurio iniziale, e ci sono avvicendati i docenti davvero molto preparati su questi temi, insieme con Paschristi. Poi le proprie lezioni online nel tempo successivo, immediatamente successivo al Covid. E continuiamo ancora con l'online, perché i giovani studenti universitari possano davvero accostarsi a queste tematiche e farne oggetto di un proprio cammino di riflessione, di impegno, di testimonianza. Ecco, la scuola è una grande opportunità, perché oltre ai grandi temi trattati da importanti docenti della scena nazionale e internazionale, è una grande opportunità, dicevo, perché si può fruire tranquillamente da casa, online, come diceva lei. Quindi è un'opportunità da non perdere. Per partecipare basta accedere al sito paxchristi.it, nell'apposita sezione, e seguire appunto le istruzioni. Nicola, dicevamo, parlare di pace oggi è quanto mai importante? È importante, è di strettissima attualità, purtroppo lo vediamo anche nei nostri spazi dedicati all'informazione di minuto in minuto. veniamo aggiornati su tanti contesti di guerra che ci portano notizie, talvolta davvero drammatiche, che vanno anche al di là di quelli che sono gli aspetti meramente tecnici che una guerra comporta, toccando a livello umanitario le corde di ciascuno di noi. Ma tornando a questa scuola, eccellenza, ecco, a chi si rivolge in particolare e quali sono gli ambiti di insegnamento, tra virgolette, toccati? Sì, destinatari di questa scuola sono studenti universitari, tant'è che abbiamo, come dire, diffuso questa iniziativa nell'ambito universitario della Università Laveranense, ma anche poi appunto vi ringrazio anche di questa opportunità che giunge attraverso Telepadre Pio perché appunto altri giovani possano eventualmente iscriversi e seguire le lezioni. Beh, gli ambiti sono quelli che mirano, ecco, a una formazione anche universitaria, accademica. Un mondo che, almeno così appare a prima vista, un mondo che non ha sempre avuto questa attenzione, diciamo così, ai problemi della pace. Della pace intesa come un cammino di riflessione alla luce innanzitutto del Magistero Pontificio, del Magistero che soprattutto in questo secolo scorso, in questi anni, ha avuto voci, da quelli del Papa, altre voci che hanno fortemente, no, sottolineato come davvero abbiamo necessità di riflettere sulla pace, di pensare la pace e anche nell'ambito nostro ecclesiale, ecclesiastico, non siamo proprio dentro un sistema, ma chiamiamolo organico, di una teologia per la pace. Noi abbiamo tante, appunto, teologie, no? E penso a una teologia biblica, penso a una teologia morale, penso a una teologia sociale, no? E però ci manca questa teologia che potremmo definire una teologia pacifica, o una teologia che faccia riflettere, ecco, questo pensiero, perché secondo anche quello che ho maturato un po', ma non solo come Presidente dei Pasquisti, ma proprio come, dico, proprio come persona umana, no? Cioè, noi dobbiamo cercare attraverso anche questo cammino, è un cammino molto, molto serio, no? Di studio, di riflessione, di apprendimento, di cercare di sradicare, ecco, proprio, dalla mente, dal cuore della persona umana, delle persone, questa convinzione, e cioè che i conflitti si risolvono solo unicamente con la guerra, solo con la violenza, solo, appunto, polemizzando, nel senso etimologico del polem, facendo guerra. Invece non deve essere così, perché se ancora noi ci convinciamo che questa è quasi inevitabilmente, è inerottabile, è inerottabile, quasi un fatalismo, no? Che tutto si risolva sempre con la guerra. Ecco, qui tornano le parole del Papa Giovanni Mediteresimo nella Pace Minteris. Questa convinzione è alienum est a ratione, soprattutto in italiano semplicissimo, è proprio fuori della ragione, è irrazionale. Ecco perché ci rivolgiamo soprattutto agli ambienti universitari, perché ci aiutino davvero, ecco, anche gli stessi docenti, i stessi studenti, in questo percorso di intendere un po' il nostro futuro, ecco, e di percorrere la strada, ecco, della pace, non della violenza. Tant'è vero che anche un altro termine, per fortuna sdoganato, diciamo così un po', è la non violenza. E a questo proposito, aggiungo brevemente, che proprio Pax Christi Internazionale, il giorno 29 di settembre, io ero a Roma, quel pomeriggio, ha fatto nascere questo istituto cattolico per la non violenza. E c'è stata la benedizione del Papa, Francesco, che ha parlato di una lodevole iniziativa, perché ha citato il suo messaggio di pace, il 2017, la non violenza come stile di una politica, ma qui non solo la politica, ma lo stile di un percorso universitario, lo stile di una relazionalità nei vari mondi di attività della persona umana. E anche qui, attraverso soprattutto online e un discorso virtuale, si sta veramente cercando a livello internazionale di riflettere, di pensare la pace. Grazie, eccellenza. Come non condividere queste parole così importanti e i vari riferimenti fatti. Oltre alla leadership per la pace, tanti gli argomenti importanti che saranno trattati durante questa terza edizione, dalla finanza responsabile ad una economia per la pace, perché sappiamo che tante volte, per ragioni economiche, che le guerre vengono portate avanti allo sfinimento. Poi sostenibilità ambientale, giustizia sociale e diritti umani. Come detto, una scuola pensata soprattutto per gli universitari, ma a cui possono partecipare tutti, proprio per la modalità intelligente di condividere questa importante formazione attraverso lezioni online. Bene, a noi non resta che ringraziarvi per l'impegno che profondete, come Pax Christi, a tutela, difesa della pace e per implementare una cultura della pace, perché la pace, contrariamente magari a quello che possano pensare le grandi, quelle grandi, tra virgolette, menti dell'economia mondiale, è più prolifica della guerra stessa, che porta solo morte e distruzione. Grazie, grazie a voi. E davvero anch'io lancio l'appello da Tele Padre Pio, perché studenti universitari soprattutto e anche giovani interessati a questo percorso ecco, si iscrivano a questo terzo anno della Scuola di Innovazione Sociale per la pace. Grazie davvero. Grazie a voi, eccellenza. Dunque, collegatevi al sito paxchristi.it e partecipate a questa importante iniziativa. Lì alla regia, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.